Due teschi e alcune ossa di variegate dimensioni appartenute sicuramente a due persone e la possibilità che siano anche di più lo stabiliranno gli accertamenti in corso. La macabra scoperta è stata effettuata ieri pomeriggio da un passante in località Campoceraso, nei pressi dell'area fieristica di Venticano. In un terreno abbandonato, un bidone conteneva i resti mortali. Dopo la segnalazione da parte dell'uomo, i carabinieri della stazione di Mirabella Eclano hanno effettuato un sopralluogo e avviato gli accertamenti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. La circostanza per cui il bidone non era occultato ma anch'esso in stato d'abbandono rende verosimile l'ipotesi che possa trattarsi di ossa provenienti da una riesumazione cimiteriale. A meno di un paio di chilometri dal luogo del rinvenimento si trova infatti il cimitero intercomunale di Venticano e Pietradefusi. Le indagini proseguono.